amici di leco fm domenica e lunedì si vota quindi 21 comuni della nostra provincia andranno alle votazioni potranno scegliere il nuovo sindaco che verrà eletto proprio nella giornata di lunedì noi saremo in diretta sarà presente anche anna airoldi ciao davide ciao buongiorno ben ritrovati tutti gli amici di leco fm che quest'oggi è qui con noi perché adesso parliamo un attimo di come si vota l'avevamo fatto anche l'anno scorso per le elezioni di lecco quest'anno tutti i 21 comuni al voto hanno una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti ci sono delle regole diverse in base al comune dove andiamo a votare anna intanto sono 21 i comuni possiamo anche ricordarli 21 comuni sparsi per la provincia di lecco ve li ricordiamo a partire da barzanò poi bellano brivio cernusco lombardone cesana brianza colico grandola valsassina cremeno galbiate garlate montevecchia morterone nibionno olgiate molgora olginate perledo pescate santa maria oe sirtori varenna e viganò di questi 21 come appunto ricordavamo ce ne saranno quattro appunto monolista per i quali insomma ci sarà come seguiremo appunto lunedì una un esito insomma anticipato rispetto alle altre che dovranno attendere infatti lo spoglio completo di tutte le schede mentre appunto per quattro sindaci e per quattro candidati sindaci per quanto per quattro comuni monolista avremo i risultati insomma già nel primo pomeriggio possiamo dire sì perché quest'anno basterà raggiungere il 40 per cento più uno dei voti degli aventi diritto per raggiungere il quorum e non più il 50 per cento più uno come accadeva negli anni scorsi raggiunto il quorum nei quattro comuni che poi sono pescate garlate santa mario e viganò e almeno il 50 per cento più uno dei voti espressi dovranno essere riferiti alla candidato alla lista unica che si presenta nel comune c'è un'altra particolarità perché ci sono delle regole diverse per i comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e quelli che ce l'hanno superiore ma inferiore ai 15.000 sono pochi i comuni che quest'anno vanno al voto e che superano i 5.000 abitanti anna sì sì sono veramente pochi superano i 5.000 barzanò colico esattamente galbiate che è di fatto anche il comune più popoloso tra i 21 in corsa poi segue olgiate molgora olginate e basta ecco questi sono di fatto i comuni che superano 5.000 abitanti e che di fatto hanno come dire una possibilità in più per esprimere il voto sì votare è semplicissimo noi ci facciamo aiutare da alcune schede ecco che sono state preparate da dal ministero dell'interno comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti vedete queste sono delle schede di test diciamo di di prova per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si può esprimere vedete la linea tratteggiata una sola preferenza per i candidati al consiglio comunale mentre per i comuni con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti se ne possono esprimere due purché siano di sesso differente allora queste sono delle liste delle liste delle schede di prova come potete vedere si può votare esprimendo una preferenza sia sul simbolo della lista che sul simbolo del candidato il voto è valido anche come se in questo caso si mette una x una crocetta sia sul simbolo della lista che sul simbolo del candidato del candidato sì certo il voto rimane valido in entrambi i casi e dicevi appunto è possibile inserire una preferenza ricordiamo di che tipo di preferenza si deve trattare questa è la preferenza a cui ci riferiamo in questo caso indicata come tizio cosa significa tizio che può essere mario rossi può essere una qualunque persona che si sia candidata come consigliere per una lista può essere votato in questo modo noi andiamo a votare la nostra lista o il nostro candidato con una crocetta su uno dei due campi e possiamo anche esprimere una preferenza in questo caso per tizio che come si può leggere è candidato consigliere della lista numero uno il voto va quindi alla lista numero uno al candidato sindaco della stessa lista e a tizio che con le nostre preferenze potrà essere eletto o meno al consiglio comunale in alcuni casi la scheda può essere nulla come in questo caso noi siamo andati a votare due candidati sindaco diversi in questo caso come si legge la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco di conseguenza la scheda è nulla insomma anna bisognerebbe votare un candidato sindaco se si vuole esprimere una preferenza nello stesso campo e e si dovrebbe votare in modo semplice no ecco sì sicuramente sì questo sarebbe il miglior auspicio possibile per appunto i giorni di votazione che ormai sono agli sgoccioli ricordiamo che si vota domenica tutto il giorno e lunedì fino alle 15 da cui poi insomma deadline delle 15 da cui poi comincerà di fatto lo spoglio dei voti e delle delle schede elettorali vediamo un altro paio di esempi in questo caso si manifesta una specie di voto disgiunto che si poteva fare l'eco l'anno scorso in questo caso noi andiamo a votare un candidato e andiamo a mettere la preferenza per la lista numero due in questo caso per i comuni sotto i 15 mila abitanti non si può fare si può votare solo il candidato della stessa lista non come per i comuni di con un numero di abitanti superiori non si può mettere il numero del collegato al candidato al consiglio comunale per esempio mentre qui andiamo a capire cosa succede per le preferenze nei comuni sotto ai 5 mila abitanti non si possono esprimere due preferenze non si può esprimere più di una preferenza per i comuni tra i 5 mila e 15 mila abitanti si può esprimere più di una preferenza in questo caso tizio e mevia che però che però devono essere di di sesso diverso beh speriamo di aver fatto chiarezza ricordiamo come ha detto prima anna che si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì buon voto a tutti noi saremo in diretta anna per seguire lo spoglio seguiteci saremo in diretta dalle 14 quindi da un'ora prima insomma della fine del tempo utile per andare a votare faremo una maratona insomma elettorale ci saranno tanti ospiti che verranno accolti qui in studio esattamente dove mi trovo io dal nostro direttore marcello villani quindi seguiteci e per rimanere aggiornati minuto per minuto sullo svolgimento delle elezioni nei 21 comuni della provincia di lecco sullo svolgimento delle elezioni di domenica